Ho sentito due barra tre idiozie, non nel servizio, ma diciamo delle persone intervistate alle quali bisogna replicare. Una l'ha detta, mi dispiace, De Falco, ex Movimento 5 Stelle, che ha detto la seguente frase sul decreto effetto deterrente basato sulla morte delle persone, cioè come a dire se tu contrasti le organizzazioni non governative nella loro attività con le loro navi, aiuti la gente a morire così la gente non partirà più. Pietà. Quello che ha ucciso migliaia di persone in questi anni è stato proprio dire a questa gente che potevano partire liberamente nelle condizioni di navigazione peggiori, che venivano messe su delle carrette sempre peggiori perché tanto le organizzazioni non governative le sarebbero andate a raccogliere. Quindi è esattamente il lavoro che invece è stato fatto in questi anni, purtroppo a far sì che tanta gente si mettesse in mare e alcune di queste persone morissero. Se per esempio si facesse quello che dice Fratelli di Italia... E' un'idiozia, mi dispiace, ma è un'idiozia perché i dati dicono che i governi seri che hanno difeso i propri confini hanno avuto anni nei quali moriva nessuno. I governi che invece negli anni in cui ci sono stati, per esempio i governi di centrosinistra che hanno favorito l'immigrazione incontrollata, è morta molta gente. Oddio dire, i numeri non sono tacciabili razzisti. L'immigrazione è anche più radicale di quella della Lega, voi avete optato per il blocco navale, addirittura... Noi siamo perché non partano i barconi, che poi è proprio l'unico modo per garantire che non morirà nessuno. Per cui guardi, siamo i più umani di tutti.